atletico madrid real madrid 1 correa salva l'atletico nel recupero derby emozionante finisce in pareggio atletico madrid contro real madrid derby emozionante finisce in pareggio atletico madrid contro real madrid nel tanto atteso derby tra atletico madrid e real madrid la squadra di diego simeone e le galattiche di carlo ancelotti si sono divise la posta domenica con un pareggio 1 1 la partita si è svolta nel guanda metropolitano e ha nuovamente dimostrato quanto siano combattute le sfide tra questi due rivali nella la liga il primo tempo ha offerto pochi momenti da ricordare poiché entrambe le squadre hanno mantenuto un gioco equilibrato e tattico real madrid che sembrava più dominante e ha avuto diverse occasioni non è riuscita a mettere la palla in rete l'atletico madrid invece si è concentrato sulla sua difesa e aspettato le opportunità di contropiede che però sono state raramente efficaci al 67 diminuto marco asenzio ha portato in vantaggio i visitatori di madrid con un gol il nazionale spagnolo ha segnato dopo un bel passaggio di luca modric asenzio era visibilmente sollevato per aver segnato il primo gol della partita ma la sua gioia non durò a lungo i padroni di casa aumentarono la pressione dopo il svantaggio e cercarono disperatamente di pareggiare nella fase finale della partita i giocatori dell'atletico fecero tutto il possibile per raggiungere il pareggio nel tempo supplementare fu infine l'attaccante argentino angel correa a pareggiare con un tiro spettacolare nell'angolo lontano i suoi compagni di squadra hanno festeggiato euforicamente poiché il punto guadagnato nella fase finale della partita è stato davvero emozionante correa ha espresso la sua gioia e ha sottolineato quanto fosse importante questo punto per la morale della squadra mentre i giocatori dell'atletico madrid esultavano i giocatori del real erano delusi poiché hanno perso l'opportunità di ampliare il vantaggio in classifica carlo ancelotti ha messo in evidenza la prestazione combattiva della sua squadra dopo la partita osservando che i risultati sportivi in incontri così intensi sono spesso imprevedibili la divisione dei punti ha un significato per entrambe le squadre poiché l'atletico madrid è riuscito a mantenere la distanza dalla vetta della classifica mentre il real madrid continua a lottare per il titolo questi derby dimostrano ancora una volta l'intensità e la rivalità del calcio spagnolo in cui piccoli momenti spesso decidono tra vittoria e sconfitta questo incontro di domenica rappresenta quindi un altro emozionante capitolo nella storia del calcio spagnolo e solleva la domanda su come si svilupperà la liga nelle prossime settimane di fans possono aspettarsi ulteriori emozionanti duelli poiché sia l'atletico madrid che il real madrid sono ancora in corsa per il campionato autore anita fa che lunedì 30 settembre 2024